Appuntamento con il biliardo a Canicati in questo fine settimana, infatti è in corso la fase finale del campionato italiano, del campionato nazionale della specialità Tresbonde, al quale partecipa anche una squadra di Canicati. La Green Planet, sì, salve. Dunque, questo è un appuntamento nazionale importante, forse pochi ovviamente lo sapranno perché la specialità non è molto diffusa nel mondo, o meglio nel mondo sì, ma nell'ambito nostro è poco conosciuta. Si sta disputando presso la Green Planet, l'associazione che ospita questa specialità, il campionato italiano a squadre. Stanno partecipando tutte le squadre a livello nazionale, purtroppo due del nord non hanno potuto partecipare a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Le squadre finaliste saranno inviate al campionato europeo e poi ovviamente proseguiranno per un percorso anche mondiale a volte. Però, dico, già questo per noi è un ottimo trampolino di lancio. Canicati, diciamo, è sempre stata sede per tutti gli appuntamenti di calcio, di basket, eccetera. Invece, da quest'anno, finalmente, anche lo sport intellettuale o quello che era inteso magari solo per i nobili, entra a far parte del nostro circuito. Questa sede sarà anche sede futura di una scuola di biliardo e sarà anche la sede di tutti gli appuntamenti e le qualifiche a livello nazionale per quanto riguarda il singolo e i juniores. E con le squadre che partecipano all'evento di quest'oggi quali sono? Le squadre sono la Green Planet, poi abbiamo la squadra ABC di Salerno, poi abbiamo l'Artes di Palermo, poi abbiamo il Master di Catania, la biglia attuale detentrice del campionato italiano di Modica e la squadra di Alcamo che è campione d'Italia attuale.